Ciao! Come ottenere una qualità migliore per i video che carichiamo su YouTube? Avere una buona qualità, oltre a consentire una frizione migliore, dà ai nostri video anche maggiore possibilità di essere visti. I video caricati ogni giorno su YouTube sono moltissimi. Una ricerca indicava nel 2019 una cosa come circa 500 ore di video caricati su YouTube, sulla piattaforma di YouTube, ogni minuto. Sempre più persone guardano video con risoluzioni più elevate da più dispositivi contemporaneamente. Necessariamente YouTube deve risparmiare spazio. E come fa? Comprimendo i video, ovvero risparmiando spazio, evitando le ridondanze, eliminando le informazioni ritenute superflue e non ripetendo quelle che non cambiano, prendendo in considerazione le sole differenze, attraverso algoritmi molto complessi. La compressione fa proprio questo. Permette la riduzione della quantità di bit necessari alla rappresentazione in forma digitale di un'informazione. In questo modo vengono impiegate meno risorse sia per la memorizzazione, sia per la trasmissione, quindi a livello di banda. Questo naturalmente causa una degenerazione della qualità del video e anche dell'audio. capita spesso di vedere il nostro video sullo schermo del nostro computer in un modo e poi, una volta caricato su YouTube, i dettagli e colori sono spesso tutt'altra cosa. Responsabili della compressione sono i codec, codificatori decodificatori. I codec effettuano la compressione dati e o la decompressione in lettura, in modo da poter ridurre lo spazio di memorizzazione occupato su un supporto di registrazione e ridurre il flusso codificato su un canale di comunicazione in fase di trasmissione. Naturalmente le metodologie di compressione sono assai migliorate nel tempo e man mano che si va avanti si riesce a comprimere sempre di più con perdite sempre minori. Il modo per avere il codec più performante nella gestione del nostro video è quello di caricare video con risoluzioni più elevate, possibilmente il 4K. In questo modo YouTube adotta un codec che non è nuovissimo, ma al momento è molto efficiente, il codec VP9. VP9, conosciuto in precedenza come Next Gen Open Video, oppure VPNext, successore del codec VP8, del quale mantiene la qualità ma utilizza un metodo di compressione più efficiente. È in competizione con il codec HEVC, ovvero H.265, del consorzio MPEG. La compressione risulta più efficiente per video, con risoluzioni più elevate. Infatti con un video in 720p il guadagno è quasi impercettibile, è poco, mentre già con un video in 1080p, quindi in Full HD, sale a quasi al 50%. È un codec che per esempio dà priorità allo sharpening, cioè alla nitidezza dell'immagine, cercando di restituire immagini nitide e prive di quei blocchi di pixel fastidiosi. Dal 2014 YouTube ha cominciato la conversione dei file in 4K con questo codec, partendo da quelli più popolari. È quindi importante, se abbiamo, facciamo un lavoro magari per un canale YouTube, che ha un canale piccolo, quello di caricare il video in formato 4K. Se hai tanti follower, ma parliamo di cifre considerevoli, YouTube concede il codec VP9 lo stesso, anche se si caricano dei video, ho visto anche addirittura 720p. Soltanto nel 2014 su YouTube gli utenti hanno guardato più di 25 miliardi di ore di video codificati con il codec VP9. Con i formati video precedenti questo non sarebbe stato possibile per una questione di larghezza di banda. Come verificare che il video caricato sia gestito col codec VP9? Andiamo su YouTube e apriamo un video. Facciamo clic col tasto destro del mouse e clicchiamo su Statistiche per nerd. Si apre una schermata e leggiamo quel che è riportato alla voce Codex. Qui potete vedere un video caricato in 1080p l'anno scorso e codificato da YouTube con il codec AVC1. Potete vedere come un file caricato recentemente è il 4K. Se andiamo a vedere le statistiche per nerd, indichi che il codec utilizzato è il VP9. Dicevamo caricare in 4K. Requisito è girare in 4K. Al giorno d'oggi la maggior parte delle camere e dei telefonini addirittura gira in 4K. Ha la possibilità di registrare in 4K, per cui non dovrebbe rappresentare un grosso problema. Quello che si allunga è sicuramente il tempo di rendering da parte dei computer che, se non sono molto performanti, faranno anche un po' di fatica a gestire e lavorare fluidamente i video in 4K, rendendo necessaria la creazione magari di file proxy e o ottimizzati. Si allungherà anche il tempo di upload dei file sui server di YouTube, perché i video in 4K peseranno più del doppio dello stesso esportato in Full HD. A titolo di esempio, il video che ho fatto per esempio sul matbox della small rig in HD ha un peso di 2,65 gigabyte, mentre lo stesso in 4K ha un peso di 6,57 gigabyte. Insomma, è una bella differenza, anche in termini necessari a uploadare il file su YouTube e a permettere poi a YouTube l'elaborazione del file. Se non ho però il mio materiale in 4K, se non posso girare in 4K, posso usare un trucchetto, ovvero esportare il mio filmato, che è magari in Full HD, in 4K. Faccio in pratica quello che è definito upscaling, cioè cerco di avere una risoluzione maggiore rispetto a quella di partenza, che è più bassa. Ovviamente non posso aumentare la qualità del video in questo modo, sarebbe impossibile, però a parità di file di origine pare che lo stesso video upscalato e trattato con WP9 fornisca risultati leggermente migliori dell'analogo file caricato in Full HD. Come ottenere l'upscaling con qualsiasi programma di editing. In fase di esportazione o delivery bisogna impostare la risoluzione e far fare il lavoro a lui. Ci sono insomma delle metodologie. Ho fatto una prova, ho preso da un filmato che ho realizzato su Venezia una breve sequenza. Il video è stato girato in 1080p in Full HD. Ho preso una breve sequenza e l'ho caricata su YouTube in 1080p nativo. Poi ho upscalato questa sequenza in 4K e l'ho caricata su YouTube. Quindi sono due sequenze uguali, ma una in 1080p e l'altra in 4K. Un 4K diciamo finto. Come potete vedere, YouTube ha trattato differentemente i due file, adottando due codec differenti. AVC1 per il Full HD, VP9 per il 4K, ottenendo dei risultati qualitativi differenti a favore del VP9. Il file upscalato in 4K dal Full HD, in attesa di essere elaborato in 4K, come vedete ha un codec AVC1. Lo stesso file, quando l'elaborazione da parte di YouTube è finita, è in VP9. Qui a confronto, due fotogrammi estratti dal file, che è lo stesso di partenza, di origine, in Full HD e upscalato in 4K. Questi frame sono presi appunto da YouTube. E potete notare come veramente la qualità sia migliore in quello 4K upscalato. Quindi, partendo dallo stesso file, se facciamo l'upscaling e lo carichiamo in 4K, otterremo sicuramente una qualità migliore. Un video encodato in VP9 sarà favorito da YouTube in quanto occupa meno banda e ha una qualità migliore. Per cui, in fase di ricerca di video su YouTube, YouTube favorirà quei video che sono encodati con questa qualità, con questo codec. In questo episodio abbiamo affrontato il perché girare e caricare video in 4K, tralasciando le motivazioni che dovrebbero spingerci a farlo, a prescindere dal trattamento di favore operato dai social. Affronteremo questo argomento e come fare materialmente l'upscaling con un programma come Final Cut Pro in un altro episodio. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale, se già non l'avete fatto, e attivare le notifiche. È un piccolo gesto che permetterà però al canale di crescere. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate se volete e ci vediamo alla prossima. Ciao!